Amici di Youtube ben trovati da Marco Liguori in un periodo decisamente tenso di eventi sismici segnaliamo un nuovo terremoto che colpisce l'Italia, la scossa piuttosto forte colpisce il nord della Calabria, l'epicentro a San Donato di Ninea e il sisma si è avvertito anche nei comuni di Acqua Formosa e di Alto Monte, non registriamo danni a persone o cose ma una cosa è certa cari amici di Youtube, la paura per i terremoti in Italia continua a crescere nei giorni scorsi abbiamo affrontato il tema del terremoto ad Umberti, del terremoto e le continue scosse nei campi flegrei amici di Youtube io vi ringrazio per l'attenzione, lasciate il vostro commento, iscrivetevi al canale e condividete questo video